Grazie e per concludere a breve qui nascerà all'interno di questo museo un antiquarium per ospitare che cosa Vittorio Alfieri? Dei reperti fittili archeologici che sono stati rinvenuti circa due anni fa nel territorio di Santo Stefano di Camastra che prima di questa scoperta non aveva tradizioni antiche e nobili ma vista la posizione geografica in cui si trova vicinissima a tre insediamenti greci, Caronia, Calacte, Amestra, Tosse, Mistretta e Tusa, Alesa, Arconidea era pensabile che avesse delle testimonianze. Due anni fa sono stati rinvenuti casualmente questi reperti archeologici che sono ascrivibili sicuramente ad una necropoli di età greca intorno alla fine del VI, inizi V secolo a.C. Quindi un segno del passato, speriamo di avervi fatto conoscere qualcosa in più di Santo Stefano di Camastra e da qui è tutto. Abbiamo conosciuto e apprezzato molto di Santo Stefano di Camastra. Grazie a tutti.